ragazzi altro accessorio che voglio presentarvi sempre acquistato nel sito della celli.com è la mia nuova custodia si presentava su una scatola davvero molto bella e ben fatta che adesso l'anno qui con me il prodotto è della serie lamborghini automobili una versione in kevlar l'effetto si presenta su tutti quanti i lati del dispositivo quindi suppongo che che sia del materiale originale e che non sia una semplice copertura di plastica kevlar appunto il materiale molto molto fino e molto molto leggera dispositivo secondo me con questo prodotto diventa ancora esteticamente molto molto bello nonostante che la custodia comunque come al solito vada a rovinare un po quello che è la bellezza dell'iphone 5 ma comunque in questo caso non presenta spessori o comunque dimensioni esagerate tanto da rovinare appunto l'estetica dell'iphone come potete notare il prodotto una volta installato che comunque l'installazione è molto molto semplice va a coprire perfettamente tutti e quattro gli angoli del dispositivo quindi a fronte di cadute i quattro angoli sono comparti fino a filo del prodotto come sempre abbiamo i quattro lati con gli accessori scoperti quindi sia sotto che nei tasti volume e di accensione sono tranquillamente raggiungibili senza nessuna difficoltà lateralmente la custodia va a coprire fino al taglio del fianco dell'iphone quindi lascia appunto l'estetica del prodotto quasi inalterata secondo me è molto molto bella e molto fine e leggera se vogliamo l'unico neo è appunto il prezzo che è al pubblico di 39 euro e 90 non poco per una custodia ma di sicura di alta qualità e a mio parere davvero bellissima un saluto da gesù 1978 e spero una prossima recensione a breve ciao